Dobbiamo perciò assolutamente capire che tutte le volte che mangiamo qualsiasi cosa, tutte le volte coinvolgiamo il fegato. Quello che viene poi assorbito nell'intestino viene poi direzionato, indirizzato al fegato tramite l'avena mesenterica. Quando poi il fegato ingrassa, allora diventa una minaccia silenziosa per la nostra salute, proprio per la mancanza di sintomi o segni iniziali. Questa situazione può comportare condizioni gravi, tra le quali il diabete di tipo 2, malattie tiroidee, malattie cardiache e la cirrosi epatica. In questo video vedremo di che cosa si tratta, le cause primarie e secondarie e la soluzione al fegato grasso e a come evitarlo. Possibili cause Uno stile di vita poco sano, come la sedentalità, la resistenza all'insulina, l'obesità, o anche condizioni mediche specifiche, o anche l'ereditalità genetica. Ognuna di queste cause può agire da fattore o cofattore nell'influenzare quindi la formazione dei grassi e la loro distribuzione nel corpo, aumentando quindi il rischio di accumulare il grasso anche nel fegato. Questo video si concentra comunque nel contesto alimentare. Andiamo subito al punto quindi. Ecco la chiara differenza tra un fegato normale e uno grasso, cioè contenente un eccesso di trigliceridi, molecole di acidi grassi chiamate anche lipidi. La differenza è lampante. I trigliceridi sono come goccioline di grasso che si formano nel tessuto epatico infiammandolo. Ciò può con il tempo causare seri problemi al fegato, inclusa la pericolosa cirrosi epatica. Il problema è accumulativo. Come possono i fattori causativi primari menzionati stimolare la produzione di queste goccioline di lipidi? Quale materiale usano? Abbiamo menzionato i fattori causativi primari, ora vedremo i fattori causativi secondari. Eccesso di fruttosio, glucosio e acidi grassi Quando in eccesso, cosa causano il fruttosio, gli zuccheri, gli amidi e i carboidrati semplici in questo contesto? Vediamolo. Il fruttosio è uno zucchero naturale presente nella frutta e in altri alimenti. In linea di massima viene metabolizzato, cioè scomposto, nel fegato, dove viene trasformato in altre sostanze chimiche ed elementi costituenti. Un eccesso di fruttosio è poi convertito in grasso nel fegato, i cosiddetti trigliceridi. Se questi poi non vengono utilizzati o smaltiti in qualche modo, portano a un accumulo di grasso nel fegato stesso, chiamato steatosi epatica non alcolica. Questi sono gli infimi trigliceridi degli esami del sangue, quando senti il tuo dottore menzionare il colesterolo buono, HDL, il cattivo, LDL, e i trigliceridi alti. Poi ci sono gli zuccheri, gli amidi e i carboidrati semplici, presenti in una varietà di cibi, i quali durante il processo di digestione e di assorbimento del flusso sanguigno sono rapidamente trasformati in glucosio, lo stesso zucchero presente nei cibi alimentari menzionati, fornendo al corpo una fonte immediata di carburante per la produzione di energia. Quando però si crea un eccesso, un sovraccarico di glucosio, che non viene smaltito dal corpo dunque allora, iniziano i problemi. Il pancreas a questo punto reagisce, producendo più insulina per regolare il livello di glucosio nel sangue. L'ormone dell'insulina a sua volta spinge il fegato a convertire il surplus di glucosio in glicogeno, il quale a sua volta, se non viene smaltito, è coinvolto indirettamente in alcuni tipi di steatosi epatica. Questo surplus di glicogeno inoltre genera a sua volta una richiesta di più insulina a causa del glucosio che rimane nel sangue ed è correlato quindi alla resistenza all'insulina, un processo o circolo vizioso dunque, legato ad altre condizioni complesse che influenzano molti fattori ed altri problemi di salute, tra i quali appunto il fegato grasso. Il glicosio in questo eccesso poi viene convertito in acidi grassi che a loro volta vengono assemblati in trigliceridi, o nuovo grasso, e vengono depositati all'interno del fegato. Un altro fattore causativo è un eccesso nell'alimentazione di acidi grassi saturi e insaturi. Gli acidi grassi saturi si trovano principalmente in alimenti di origine animale come carne grassa, latticini ad alto contenuto di grassi e alcuni oli vegetali contenenti grassi trans-idrogenati come olio di girasole, di mais, di canola, di palma ed altri. Ne parleremo in un video futuro di questo, ragione in più per iscriverti al canale. Un'elevata assunzione di acidi grassi saturi dunque può aumentare la produzione di lipidi nel fegato, contribuendo direttamente all'accumulo di trigliceridi nel fegato stesso, quindi. Gli acidi grassi insaturi, invece, sono presenti in oli vegetali come l'olio d'oliva, l'avocado, nelle noci e nei pesci grassi. Possono anch'essi contribuire, ovviamente, all'accumulo di grasso nel fegato se consumati in eccesso rispetto al fabbisogno energetico del corpo. Tuttavia, l'eccesso di acidi grassi saturi ha un impatto più diretto sull'accumulo di grasso nel fegato rispetto agli acidi grassi insaturi che possono invece avere altri benefici per la salute come l'omega 3, se ovviamente consumati con moderazione e nell'ambito di una dieta equilibrata. Quindi, finora abbiamo visto cos'è il fegato grasso e le sue cause, cioè i fattori causativi primari e secondari, come il fruttosio, il glucosio e i grassi acidi. Ora vedremo la soluzione. Riduzione di fruttosio, glucosio e grassi acidi La soluzione è semplice. Ridurre drasticamente il fruttosio come succhi di frutta del supermercato, bibite cassate, dolci confezionati, biscotti, cornetti ripieni, caramelle, eccetera. Ridurre il glucosio, il glucosio metabolizzato dagli zuccheri, dagli amidi e dai carboidrati semplici, privilegiando invece cibi naturali, integrali, ricchi quindi di fibre, proteine e grassi sani. Per quanto riguarda i grassi saturi e insaturi, consiglierai moderazione e varietà nella dieta settimanale. Eviterei assolutamente i grassi saturi trans come gli oli vegetali idrogenati. Questo tipo di alimentazione è sostenibile, interrompe la formazione di grassi dannosi e quando è associata al movimento, all'esercizio fisico, quando evitiamo la sedentarietà, quando bruciamo di più e mangiamo di meno, allora potremo perdere il grasso accumulatosi nel fegato, smaltendolo gradualmente. Se hai trovato queste informazioni utili, qui sotto o nel canale direttamente troverai una lista di video collegati a questo tema così importante. Puoi vedere quello sugli zuccheri e i carboidrati, per esempio, o sull'omega 3 e quello che spiega i cibi ideali da consumare durante la malattia, applicabile senz'altro anche al fegato grasso. Al prossimo video, quindi.